Sono un gruppo di giovani cilentani promotori del progetto Cilento Clean Up, il cui scopo è la pulizia, la protezione e la sensibilizzazione ambientale. Si tratta di quattro ragazzi attivisti accomunati dal medesimo obiettivo, la salvaguardia del territorio che lo circonda. L'idea di realizzare l'associazione nata prima dell'arrivo della pandemia che ha di conseguenza sospeso ma non fermato l'iniziativa. La loro prima piccola pulizia si è tenuta l'11 gennaio alla foce del fiume Alento, Casalvelino Marina. I giovani ambientalisti hanno raccolto un bustone e mezzo di plastica e mezzo bustone di indifferenziata nell'arco di un'ora e trenta. Abbiamo riflettuto molto sul da farsi, si legge dai profili social, la priorità per noi è agire per dimostrare che ci siamo. Tuttavia organizzare un clean up libero dove qualunque persona potesse partecipare non ci è sembrata l'opzione giusta. La responsabilità è molta e creare degli ipotetici assembramenti con tutte dovute precauzioni. Non ci è parso necessario. Stiamo però pensando a una sfida a cui ognuno di voi può partecipare. Lo scopo di questa iniziativa è rendere il clean up un trend, una moda dovuta al cilento. Più in là usciranno i dettagli, spero parteciperete in tanti. Attraverso dei video i ragazzi dimostrano la loro attività allo scopo di sensibilizzare le altre persone, investono il loro tempo non solo per difendere e salvaguardare il territorio in cui vivono, ma estendono il loro contributo a tutto il cilento, meta turistica ambita nei mesi estivi. Vivere in un ambiente con un mare, un fiume e un'aria pulita può offrire un valore aggiunto al cilento e i giovani ambientalisti vogliono dimostrarlo operando in prima persona sul campo. Siamo un gruppo di ragazzi che ha deciso di attivarsi per salvare il cilento dai rifiuti, scrive Anthony Cammarano. In questi giorni abbiamo iniziato il percorso di riqualifica di Casa Dalvelino Marina, partendo dalla Foce. Speriamo di riuscire a pulire il più possibile le spiagge e il vostro comprensorio, anche con il supporto del Comune. In questo primo clean-up eravamo in quattro, speriamo al più presto, pandemia permettendo, di espandere l'iniziativa a tutti gli abitanti del Paese e oltre. Organizzeremo delle giornate di pulizia. Per riaggiornamenti seguite la pagina Cilento Cleanup.